Eccolo qui il cartello della discordia o dello scandalo, se sentite chi di lì è passato e la pagata cara. Piazzale Negrelli, vista sul naviglio, periferia che di più non si può. Qui c'è una ZTL, dalle 7 alle 10 del mattino solo bus e taxi in direzione centro. 7 giorni su 7, Natale, Terragosto, Capodanno, non si spegne mai la telecamera. Il cartello è fissato al semaforo, lassù in quota. L'hanno abbassato di una ventina di centimetri, c'è ancora il segno di dovera sul palo scrostato. Nessuna indicazione luminosa, nessun orologio digitale per togliere i dubbi a chi arriva a ridosso delle 7 o delle 10. Insomma, segnalata sì, ma coi piedi. E alla fine l'assessore Granelli ha ammesso che si poteva fare meglio, annunciando la cancellazione delle multe staccate in questi nove mesi. Una vittoria per chi ha guidato la rivolta. Paolo si è speso, riunioni su riunioni, qui al Bar Titanic, sede di un comitato improvvisato. Mi sono rimasto impresso, non pensavo che avevano colpito tanta gente perché hanno multato tanta di quella gente che è una cosa incredibile. Soprattutto i paesi limitrofi, Buccinasco, Corsico, Trezzano, un abitante su tre, un'automobilista su tre è stato multato. Le prime multe sono arrivate a febbraio, mi riguardavano novembre, dicembre, che alle 7 del mattino, è buio, un cartello ne ha messi a 4 metri di altezza, che neanche con i fari dell'auto. Grana risolta, quindi, ma resta il problema di chi ha questa ZTL un po' così, ha pagato un conto anche più salato. C'è lì un chilometro di negozi, da quell'ora stanno rischiando la chiusura. Sono sei mesi che stanno vivacchiando in qualche modo, un paio hanno già chiuso, fra l'altro. Perché ci sono cinque bar, voi mi dite la mattina dalle 7 alle 10, se la gente non può passare, che lavoro fanno? Intanto però al Bar Titanic aspettano tutti per brindare, soprattutto chi se l'è vista brutta, e adesso può sorridere. Siamo arrivati a un record, una persona aveva 70, pensavo che 60 era il massimo, abbiamo trovato un'altra 75 multe a presa. C'è gente poi si impressiona, ha pagato subito, adesso non so se riuscirà a avere il rimborso.